La Regione Campania sul sito di trasferenza avrebbe indicato la location. È la città di Battipaglia, una scelta ipotizzata martedì sera in un summit regionale che potrebbe essere confermata nelle prossime ore dal Vicepresidente Fulvio Bonavitacola. La Regione, infatti, sarebbe pronta ad indicare come area geografica quella della città battipagliese. La zona dovrebbe essere quella nei pressi dello svincolo autostradale, con terreni di proprietà provinciale. Dunque, l'indifferenziato trattore a Battipaglia resta in città la stessa che ospita anche l'Exestir, nel quale saranno conferite anche le balle di secco biostabilizzato, ossia la stazione di trasferenza. La decisione scaturerebbe dal fatto che la provincia aveva indicato Sardone per tre mesi, ma ci sono state le vehementi proteste del sindaco Antonio Giuliano e dunque c'è stato il passo indietro. A questo punto, la Regione, per chiudere la questione, avrebbe pensato Battipaglia.